L'elenco delle scelte sbagliate dell'amministrazione comunale, secondo l'opposizione, si allunga. Le ultime in ordine di tempo riguardano l'intervento della Corte dei Conti, prima per il percorso dell'operazione tra linea group holding e il colosso milanese A2A, che potrebbe provocare un danno erariale enorme, poi sulle modalità con cui sono stati gestiti i conti dal 2016 a oggi. In pratica si rimprovera lente una scarsa capacità di riscossione delle tasse compresa l'imposta sui rifiuti, con la tarifa puntuale che sta mostrando più ombre che luci. Beh, finalmente qualcuno comincia a accorgersene, perché questa è la reale situazione di questa giunta da dieci anni, ma in peggioramento anno dopo anno. Adesso, discorso tarifa puntuale, siamo arrivati addirittura alla barzelletta che è l'amministratore della società che fa consulenza, che chiede di prorogare la consulenza per motivi suoi e addirittura viene prorogata la consulenza a un costo di altri quasi, mi sembra, 13 mila euro. La Corte dei Conti, che interviene dicendo che il Comune di Cremona ha poco polso nell'esigibilità, nell'esigere, nel chiedere ai cittadini quelle che sono le multe che non sono pagate. Ma cosa stanno facendo? Siamo nell'occhio del mirino. Galimberti ormai è completamente abbandonato dal PD. Questi contesti portano a delineare una situazione complicata. Ho scoperto stamattina che addirittura fanno un'altra ciclabile al posto dei parcheggi davanti al CUP dell'ospedale. Cioè la gente deve parcheggiare per andare al CUP, per anottare gli esami, pagare le visite e quant'altro e loro fanno un'aciclabile. Ma a loro il cittadino non interessa. Non si può andare avanti con un meniferismo tale nei confronti dei cittadini. La città è sempre più abbandonata. Lo vediamo dai marciapiedi, lo vediamo sulle strade, lo vediamo per qualsiasi minima cosa. Per questo diventa sempre più necessario intervenire e affrontare le situazioni in modo che si possano risolvere al più presto.